Siamo felici di questo rapporto tra il nostro teatro e Venice Fashion Week perché finalmente è la prima occasione in cui Venezia ha la possibilità di dire che diventa un centro di produzione vitale. Siamo alle sale Apolline dove abbiamo appena finito una sfilata di moda dei costume di teatro realizzato nel atelier del teatro La Fenice. Ogni uno di questi vestiti devono essere a misura di un millimetro per la cantante ma oltre di questo è l'amore e la passione che ogni sarta per realizzarlo dà in queste opere d'arte.